Il 200 e 300 in Italia sono dei secoli in cui avvengono dei fatti importantissimi per la nostra letteratura. Sappiamo dell'importanza della letteratura francese, dello sviluppo di temi non soltanto amorosi ma anche legati alla tradizione cavalleresca e sappiamo di quanto la letteratura francese sia stata importante anche per la formazione di quella nostra. Ma sicuramente un ruolo importantissimo in Italia è da attribuire alle corti, cioè a quei luoghi all'interno dei quali i sovrani amavano circondarsi di uomini di letteratura, di uomini di artisti, di poeti, di rappresentanti cioè di quel sapere alto dei quali gli stessi sovrani erano innamorati. Se pensiamo per esempio alla prima di queste scuole che si sviluppa in Sicilia, la scuola poetica siciliana, non possiamo ignorare del grande amore, della grande passione che il sovrano Federico II di Svevia ebbe proprio per la letteratura, di cui egli stesso fu un significativo esponente. Guardando la penisola italiana ci rendiamo conto che non tutte le regioni sono attraversate da questo fenomeno, cioè dall'interesse, dalla creazione di luoghi deputati proprio alla poesia, alla letteratura, ma sono soltanto alcune città, sicuramente come si vede dalla cartina la gran parte sono concentrate in Toscana. Firenze, certamente, Lucca, Siena, Arezzo, la vicina Bologna, sede della prima università italiana e quindi luogo culturale sicuramente di rilievo. E poi il nulla fino ad arrivare a quella Sicilia in cui Palermo, la capitale per l'appunto, vive il vento favorevole della scuola poetica siciliana grazie alla presenza nel nostro territorio del sovrano appunto Federico II di Svevia. La scuola poetica siciliana, che si sviluppa prima di quella toscana, è molto importante perché all'interno della corte di Federico II si riprendono i temi propri della letteratura francese, in maniera particolare della letteratura che si sviluppa secondo il modello provenzale, quindi in Provenza, il cui tema principale è il tema sentimentale, il tema amoroso, quell'amor cortese che troverà diversi poeti che lo svilupperanno all'interno delle poesie. I poeti erano pagati dall'imperatore, erano proprio dei funzionari dell'imperatore e all'interno delle corti trascorrevano gran parte del loro tempo proprio a comporre. Guardando sempre la cartina, in maniera molto riassuntiva, troviamo la scuola poetica toscana che si sviluppa in seguito allo sviluppo di quella siciliana, tanto che quando la corte di Federico II decadrà, saranno proprio alcuni poeti siciliani che si trasferiranno in Toscana andando a contaminare, da un punto di vista letterario, la letteratura che già comunque in Toscana era sviluppata. Questa si chiamerà poesia siculo-toscana proprio per il fatto che appunto risente tantissimo dell'influenza della scuola poetica siciliana che addirittura viene posta come modello. I temi dell'amor cortese verranno arricchiti con l'interesse che si esprime nella scrittura per temi di tipo politico, morale, civile e quindi si riprendono in questo senso le tematiche proprie della seconda metà del 1200. Ultimo importante luogo di sviluppo della letteratura sarà Firenze. Firenze è il capoluogo di quella toscana che sarà la culla della nostra letteratura che vedrà grandi maestri primo fra i quali Dante, Dante Alighieri che insieme ad altri Guinizelli per esempio e Cavalcanti saranno proprio coloro che i massimi rappresentanti di quel dolce stile nuovo, di quello stile nuovo che appunto già nel nome stile nuovo viene sviluppato in Toscana stessa. Il tema sarà anche qui quello amoroso ma con una caratterizzazione specifica propria che poi vedremo sviluppata in maniera molto significativa soprattutto nella poesia di Dante Alighieri. Se infatti nella poesia, nei temi amorosi sviluppati anche dalla scuola poetica siciliana la donna era vista come destinataria delle pene d'amore dei suoi innamorati uomini i quali però non ricevevano mai il dono della concessione, del concedersi della donna nel dolce stile nuovo la donna ha una funzione specifica viene considerata la donna angelo, cioè quella donna innamorandosi della quale l'uomo ottiene la liberazione, la purificazione della propria anima è quella donna di cui l'uomo si innamora si innamora non per le sue bellezze fisiche, in alcuni casi neanche descritte se pensiamo alla poesia di Dante, tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia ecco, in quella poesia non c'è una sola descrizione fisica della donna ma tutto è amore verso ciò che il passaggio, il semplice passaggio della donna provoca nell'uomo stesso innamorato quindi i temi saranno la gentilezza, la dolcezza, l'amore non come mezzo di soddisfazione carnale, di bisogni ma al contrario come elevazione spirituale che porta l'uomo sia al tormento ma contemporaneamente alla sua purificazione alla sua elevazione l'ultimo sviluppo della poesia di cui tratteremo è appunto quello della poesia comico-realistica temi fortemente lontani da quelli fino ad ora elencati in questo caso la letteratura si rivolgerà, la poesia si rivolgerà proprio agli aspetti più bassi del sentire comune quelli che appartengono al vulgo, al popolo, al mondo alla dimensione mondana dell'esistenza quella cioè che risponde ai bisogni di una borghesia mercantile che ormai è fortemente sviluppata e presente all'interno della vita di ogni giorno in quelle città quindi troveremo un linguaggio basso un linguaggio comico, ricco di terminologie popolari uno dei massimi rappresentanti di questo genere sarà proprio Cecco Angiolieri andando a guardare in maniera un po' più dettagliata i contorni delle diverse scuole riassumiamo un po' la scuola poetica siciliana si sviluppa nel 200 con Federico II di Svevia a Palermo che diventerà appunto uno dei centri più importanti nel quale ci sarà la frequentazione non soltanto di grandi esponenti della letteratura e della poesia ma anche filosofi e scienziati Palermo diventerà il crocevia di letterature greche, latine, arabe e quindi anche normanne la poesia è una poesia amorosa in cui i funzionari esponenti di questa scuola poetica siciliana esprimeranno appunto una scrittura più di tipo elitaria verrà cioè scritta esclusivamente per quel pubblico colto che frequenta la corte siciliana il linguaggio sarà quel siciliano illustre di cui uno massimo rappresentante sarà Stefano Protonataro il tema, quello della donna idealizzata tipico dell'amore cortese lo strumento utilizzato per la scrittura la canzone, la canzonetta oppure il sonetto quella forma poetica diffusissima da quel momento in poi la cui creazione si attribuisce al siciliano Jacopo da Lentini abbiamo detto che poi la scuola si svilupperà in Toscana quando ci sarà la caduta del regno di Federico II in Sicilia i temi rimarranno quelli amorosi si aggiungeranno quelli politici morali e religiosi e questa volta il volgare che verrà utilizzato sarà quello tipico della Toscana il volgare toscano influenzato fortemente anche da termini provenzali per cui si parla di uno sperimentalismo cioè di un linguaggio nuovo che cerca di sviluppare una terminologia quasi da toscano contaminato dai termini provenzali anche qui si svilupperà il sonetto che ormai diventerà uno strumento poetico diffusissimo e poi la canzone è un'altra forma metrica interessante che è quella della ballata che nel Medioevo avrà un grande sviluppo i rappresentanti più importanti sicuramente Guittone d'Arezzo tanto che molti che si riferiranno si rifaranno al suo stile verranno definiti guittoniani Guittone d'Arezzo si diffonderà soprattutto un tipo di poesia di argomento civile e politico e i guittoniani svilupperanno sullo stesso solco la loro produzione poetica andiamo al dolce stil nuovo definito così da Dante che vediamo rappresentati in questo quadro mentre innamorato guarda incontra secondo la tradizione questa è la rappresentazione iconografica del primo incontro tra Dante e Beatrice sul ponte della Trinità a Firenze l'amore di Dante per Beatrice sarà quello che più ispirerà la poesia del sommo poeta ed inaugurerà questo stile nuovo e dolce nuovo per distinguerlo da quello passato ma anche dolce per rappresentare un nuovo modo di poetare e contenuti nuovi tra i fondatori oltre allo stesso Dante soprattutto Guido Quinizelli Bolognese che appunto contaminerà poi altri poeti fino allo stesso Dante un altro rappresentante importante Guido Cavalcanti tutti e tre saranno i massimi rappresentanti del dolce stil nuovo all'interno del quale troviamo sicuramente temi amorosi ma contemporaneamente questa nuova concezione della donna considerata come un angelo innamorandosi della donna l'uomo che non svilupperà un amore di tipo passionale e carnale invece si avvicinerà a Dio dirà Dante nella poesia tanto gentile e tanto onesta pare che la donna è come se fosse un angelo mandato da Dio da cielo in terra a miracol mostrare mandato da Dio dal cielo alla terra affinché mostri all'uomo il miracolo dell'amore un amore che necessariamente non può essere carnale ma un amore purificante per cui chi si innamora di questo tipo di donna vivrà una purificazione di se stesso il dolce stil nuovo si diffonderà con l'utilizzo della lingua del volgare toscano che questa volta verrà liberato dai tratti popolari e provenzali quindi si comincia finalmente col dolce stil nuovo ad individuare un volgare proprio specifico della Toscana e infine il tratto più popolare della nostra letteratura del 200-300 rappresentata dalla poesia lirico-comico-realistica in cui si dà soddisfazione all'interesse la diffusione tra quel cedo mercantile fortemente sviluppato all'interno di questo periodo nelle grandi città medievali gli interessi sono quelli per il cibo per il corpo per la sensualità questa volta per l'amore per le donne che poco hanno a che vedere con la donna Angelo di cui abbiamo parlato prima quindi alla vita peccaminosa se vogliamo fatta sicuramente di interessi per la passione per il denaro e per il vivere con piacere grazie a tutti grazie a tutti